Qualcuno dirà che è schifo, se ne importa, guarda in che posizione si è messa, che lingua è molto lunga, ragazzi, ti ho preso lo zucchero, però è un po' ben, insomma, guarda come mangia bene, no? Se ne accada a lingua, se ne accada a lingua, se ne accada a lingua.